salve a tutti e benvenuti sul canale creare con sud est in questo video tutorial andremo a realizzare insieme questo grazioso vestitino da bimba una taglia 69 mesi per realizzare questo vestitino io ho utilizzato il filato mondial polo 50 per cento lana 50 per cento l'acrilico il gomitolo da 50 grammi 200 metri ma sicuramente il vestitino così sarà molto molto delizioso anche utilizzando il cotone magari utilizzando un cotone setoso morbidissimo e molto molto lucido davvero un cotone eccezionale anzi più che un cotone e una canna di zucchero al cento per cento troverete anche in quest'altri colori il filato lo potete acquistare nella nostra merceria sud est che troverete il link giù nell'info box della merceria giù nell'info box troverete anche il link del nostro gruppo facebook e creare con sud est e anche il link di questa scarpina graziosa che viene abbinata vicino a questo vestitino le scarpine sono intrecce d'amore ho cambiato semplicemente la fascetta anziché lavorarla a costa uno per uno ho lavorato solo a legaccio ecco per realizzare il vestitino ho utilizzato 120 130 grammi di filato ho fatto rifinitura con questo bordino molto grazioso utilizzato il ferro numero tre per tutto il vestitino e l'uncinetto due e mezzo per fare rifiniture e anche i fiorellini detto ciò passiamo al tutorial per realizzare il vestitino vado a fare il lavio per il davanti un avvio di 92 maglie e vado a lavorare per 22 centimetri circa semplicemente a maglia rasata diritta fatto ciò mi trovo sul diritto del lavoro e qui dovremmo fare delle diminuzioni per rendere il vestitino più aderente su quindi vado a fare in questo modo la prima maglia è sempre la maglia di vivagno dopodiché una e la seconda maglia a diritto due maglie insieme entro attraverso la prima e la seconda maglia e lavoro semplicemente una sola maglia di nuovo 1 2 2 maglie insieme 1 2 2 maglie insieme ripetiamo ciò per tutto il ferro terminato tutto il ferro di diminuzioni giro il lavoro da adesso in poi andrò a lavorare a semplice maglia a legaccio quindi tutti i ferri si lavorano sempre e solo a diritto la prima maglia è sempre la vivagno dopodiché vado a lavorare semplicemente tutte le maglie di nuovo a diritto quindi tutti i ferri sia andata che al ritorno le maglie vanno lavorate a diritto vado a lavorare per qualche centimetro ho proseguito con il punto legaccio giusto per 4 cm e sono usciti 16 ferri ora vado a fare le diminuzioni per scalfo manica per realizzare scalfo manica lo faremo in questo modo la prima maglia abbiamo sempre la maglia di vivagno quindi la maglia di vivagno la seconda maglia semplicemente a diritto dopodiché o le prossime due maglie li vado a prendere insieme a diritto quindi entra attraverso la prima e la seconda maglia ecco vedete sono due maglie sul ferro e vado a fare una sola maglia a diritto e lo rifaccio nuovamente per la seconda volta faccio una diminuzione quindi entro attraverso le due maglie e vado a fare una sola maglia a diritto il resto delle maglie vado a proseguire semplicemente a diritto quindi lavorando sempre il punto legaccio finché sul ferro non mi rimangono giusto sei maglie arrivata alla fine del ferro mi rimangono sei maglie sul ferro quindi nuovamente io vado a prendere le due maglie insieme entro attraverso le due maglie e vado a fare una sola maglia a diritto la prima e la seconda volta quindi di nuovo attraverso le due maglie li prendo insieme e vado a fare una sola maglia a diritto le prossime maglie una lava lavoro come sempre a legaccio e una l'ultima maglia a divagno il ferro di ritorno invece vado a lavorare semplicemente tutte le maglie a diritto per formare il legaccio e quindi sia il secondo che tutti i ferri pari vanno lavorare semplicemente a diritto qui non ci stanno le diminuzioni terzo ferro di diminuzioni esattamente come in precedenza o la maglia di divagno una maglia a diritto due maglie insieme per due volte la prima e la seconda dopo di che continuo a lavorare tutte le maglie semplicemente a diritto finché sul ferro non mi rimangono giusto le sei maglie rimangono sei maglie sul ferro quindi vado a realizzare la prima e la seconda diminuzione ultima maglia a diritto della maglia di divagno il quarto ferro semplicemente tutte le maglie a diritto quinto ferro di diminuzione ripetiamo tutto esattamente come nei per i precedenti quindi la prima alla vivagno una maglia a diritto due maglie insieme per due volte 1 e 2 proseguire fino alla fine del ferro con tutte le maglie a diritto finché non rimangono sei maglie rimaste sei maglie facciamo come sempre la diminuzione anche dall'altro lato quindi due maglie insieme due maglie insieme una diritta una vivagna terminato la terza diminuzione ecco si è formato lo scalfo manica eccolo qui vado a proseguire semplicemente a legaccio per qualche centimetro prima di fare lo scollo del davanti dopo aver eseguito la diminuzione dopo aver eseguito la diminuzione ho proseguito ancora per 12 ferri di legaccio in totale ho ottenuto 7 centimetri di punto legaccio adesso dobbiamo andare a creare lo scollo davanti quindi andremo a realizzare in questo modo lo scollo da adesso in poi io vi darò tutti i numeri dei ferri che andiamo a lavorare così sarà più facile a seguire il tutto quindi adesso vado a lavorare 21 maglie compreso la maglia di vivagno semplicemente a legaccio quindi 1 2 3 4 5 20 e 21 fatte le 21 maglie dobbiamo andare a chiudere 16 maglie centrali quindi la prima maglia la vado a lavorare dopo di che vado a rimetterla di nuovo sul ferro prendo due maglie insieme quindi ho sul ferro due maglie vado a lavorare queste due maglie insieme come una sola maglia a diritto in questo modo avrò chiuso la mia prima maglia rimetto di nuovo la maglia sul ferro sinistro rientro attraverso le due maglie e vado a lavorare una sola maglia a diritto ho chiuso la seconda maglia rimetto di nuovo entro attraverso le due maglie e li vado a lavorare insieme in questo modo ho chiuso la terza maglia e così via finché non avrò chiuso 16 maglie totali e ultima sedicesima maglia ora mi rimangono compreso a questa maglia 20 maglie totali li vado 21 maglie totali scusatemi vado a lavorare tutte queste maglie semplicemente a legaccio terminato il primo ferro dello scollo abbiamo ottenuto questo ecco abbiamo chiuso le maglie centrali da un lato e dall'altro lato ne sono 21 maglie per ciascun lato il secondo ferro dalla chiusura del collo andremo a lavorare semplicemente tutte le maglie a legaccio nei ferri dispari nei ferri pari scusate quindi nel secondo quarto sesto e così via non andremo a chiudere assolutamente niente andremo a lavorare semplicemente tutte le maglie come da disegno il terzo ferro adesso stiamo lavorando le parti separatamente quindi lavoriamo il terzo ferro di una parte quest'altra parte la andremo a eseguire esattamente nello stesso modo asimmetrico partendo dal terzo ferro che il primo abbiamo appena terminato e anche il secondo quindi andremo a realizzare adesso le diminuzioni il terzo ferro dello scollo la prima maglia e la pipagno dopo di che prendo due maglie insieme entro attraverso le due maglie e vado a lavorare una sola maglia a diritto per la prima e anche per la seconda volta quindi di nuovo entro attraverso le due maglie e vado a lavorare una sola maglia a diritto dopo di che ripeto tutte le maglie lavorando semplicemente a diritto il quarto ferro andremo a ritornare con tutte le maglie a diritto senza nessuna diminuzione il quinto ferro la prima maglia e la pipagno e andiamo a eseguire una sola diminuzione quindi entro attraverso la prima e la seconda maglia del ferro e vado a realizzare una sola maglia a diritto fatto la diminuzione proseguo tutte le maglie semplicemente a diritto il sesto ferro andremo a lavorare sempre a diritto che è il ferro di ritorno il settimo ferro la prima maglia e la pipagno dopo di che vado a realizzare una diminuzione entrando sempre attraverso le prime due maglie e faccio una sola maglia a diritto dopo di che tutte le maglie proseguo semplicemente a diritto quindi queste diminuzioni le andremo a fare da adesso in poi abbiamo fatto prima ogni due ferri da adesso in poi le andremo a fare ogni quattro ferri una diminuzione quindi entrando attraverso le due maglie e faccio una sola maglia a diritto le diminuzioni vanno eseguiti dopo il settimo ferro sul ferro numero 11, 15, 19 e 25 il resto dei ferri vanno lavorati semplicemente a diritto senza nessuna diminuzione arrivati al ferro 30 andremo a chiudere semplicemente tutte le maglie per le spalle dopo aver terminato con il davanti abbiamo ottenuto questo risultato e quindi andremo a lavorare il dietro il dietro si fa esattamente lo stesso numero di maglie di avvio procediamo per la stessa altezza e faremo esattamente ciò che abbiamo fatto con il davanti per lo scalfo manica quindi facendo le diminuzioni entrambi i lati andiamo a salire per l'altezza desiderata dobbiamo avere la stessa altezza del davanti ecco e quindi vado a chiudere completamente tutte le maglie fatto ciò vado a eseguire le cuciture sulle spalle e le cuciture sui fianchi dopo di che andremo a riprendere il bordino che faremo all'uncinetto dopo aver eseguito le cuciture del vestitino laterale e anche sulle spalline vado a fare rifiniture li farò dappertutto quindi lo scollo entrambi i scalfi e anche giù in basso e vi mostro adesso come realizzo questa rifinitura uncinetto due e mezzo entro e mi aggancio con il filato la prima è una semplice catenella dopodiché vado semplicemente ripassare tutto quanto lo scalfo con il punto basso intorno quindi un semplicissimo punto basso tutto intorno e intorno allo scalfo manica terminato tutto il giro con il punto basso vado a chiudere il giro con un punto bassissimo ora vado a fare una catenella che mi sostituisce il mio punto basso dopodiché altre due catenelle e salto 12 punti di base nel terzo punto di base vado a fare un semplice punto basso la gettata sull'uncinetto e vado a ritornare nel punto di partenza quindi vado all'indietro salto i due punti che le ho saltati in precedenza e nel punto del punto basso vado a fare una nocciolina quindi entro dentro tiro per bene il filo allungo l'uncinetto di nuovo la gettata esco sono due la terza gettata entro prendo il filo ed esco la quarta gettata prendo il filo ed esco ora chiudo tutti i filini che ho sull'uncinetto li vado a chiudere semplicemente passo e chiudo con una catenella nel punto basso qui vado a fare da dove è partita la nocciolina vado a fare un punto basso di nuovo due catenelle 1 2 salto due punti di base 1 2 nel terzo punto il punto basso il filo sull'uncinetto e vado a ritornare indietro dove ho il punto basso quindi vedete ecco l'ultimo punto basso e il punto basso precedente all'interno vado a realizzare la mia nocciolina con 4 gettate 2 3 4 gettate quindi chiudo la nocciolina catenella per chiuderla e qui da dove avevo l'ultimo punto basso vado di nuovo a fare un punto basso cerco di avvicinare più possibile per farvi vedere meglio qui abbiamo il punto basso dove abbiamo appena chiuso vado a fare due catenelle 1 e 2 saltiamo due punti di base 1 2 nel terzo punto di base un punto basso la gettata sull'uncinetto e torno indietro dove ho il punto basso precedente quindi qui ho l'ultimo e qui ho penultimo punto basso prendo il filo ed esco di nuovo la gettata prendo il filo ed esco la terza gettata prendo il filo ed esco e la quarta ed ultima gettata prendo il filo ed esco chiudo la nocciolina con una catenella fatto ciò vado nell'ultimo punto basso che abbiamo realizzato quindi qui avevo il mio l'ultimo punto basso e rientro sempre nello stesso punto faccio un punto basso 2 catenelle saltiamo due punti di base 1 e 2 nel terzo punto di base punto basso la gettata sull'uncinetto ora vi faccio vedere dove chiudo i miei punti magari metto il segna punto qui così vedete che questo è il mio punto ultimo punto e vado nel punto basso che abbiamo realizzato in precedenza quindi la prima la seconda la terza e la quarta gettata li chiudo tutti insieme una catenella e vado a chiudere questa nocciolina qui esattamente dove ho il mio segna punto quindi l'ultimo punto basso spero che riuscite a capirlo quindi andremo a proseguire tutto il giro in questo modo e in questo modo andrò a realizzare tutte le rifiniture sia gli scalfo manico che lo scollo che anche giù al vestitino in basso terminato tutto il giro di punto noccioline vado a chiudere il giro esattamente nel punto di partenza quindi nel punto dove avevo la catenella per salire finito tutto non resta che nascondere tutti i fili dare una bella svaporizzata al vestitino e facciamo qualche fiorellino i fiorellini saranno questi poi magari all'interno ci metterò anche una piccola perlina poi insomma dipende quello che volete fare per realizzare questo fiorellino un po' tridimensionale lo andremo a fare in un modo seguente lo lascio inizialmente subito un filino un po' più lungo per poter cucire stesso con questo filo il mio fiorellino vicino al vestito quindi vado a fare un anello magico chiudo l'anello magico con la catenella la catenella di chiusura non la conto mai dopo di che vado a fare 10 punti bassi all'interno dell'anello magico 2, 3, 4 e 10 chiudo dentro nel primo punto basso e vado a chiuderlo con una maglia bassissima dopo di che vado a fare la prima catenella che mi sostituisce il mio punto basso più 2 catenelle nel prossimo punto di base semplicemente 3 punti alti 1, 2 e 3 tutti nello stesso punto di base 2 catenelle nel prossimo punto di base un punto basso 2 catenelle nel prossimo punto di base 3 maglie alte 1, 2, 3 2 catenelle nel prossimo punto di base 3 maglie alte e così via fino ad ottenere 5 petali e completare tutto il giro realizzati gli ultimi 3 punti alti 2 catenelle e vado ad attaccarmi vicino al punto di partenza quindi nella catenella di partenza vado a fare una maglia bassissima dopodiché giro il fiore faccio una catenella e vado a prendere il punto basso da quindi io ho l'uncinetto da dietro vado a prendere solo il punto basso quindi entro ed esco in questo modo vado a fare un punto basso dopodiché 2 catenelle e cerco il punto basso seguente che è questo qui ecco vedete tra le maglie alte qui e qui c'è questo punto basso vado a prendere da dietro con l'uncinetto da dietro entro ed esco quindi prendendo tutto quanto il punto basso faccio un punto basso di nuovo 2 catenelle e vado a cercare il prossimo punto basso che è questo qui da dietro prendo il punto basso in costa e realizzo un punto basso 2 catenelle il prossimo punto basso 2 catenelle il prossimo punto basso 2 catenelle e ho raggiunto il punto di partenza ecco qui ho già il punto realizzato quindi mi vado semplicemente agganciare vicino al filo e faccio una maglia bassissima per chiudere da qui parto di nuovo 1 2 catenelle e prendendo queste catenelle qui si forma questo archetto all'interno di questo archetto vado a realizzare 3 punti alti 1 2 3 nel punto basso 2 catenelle e nel punto basso vado a fare un punto basso 2 catenelle nel prossimo archetto eccolo eccolo di nuovo 3 punti alti 1 2 e 3 2 catenelle e nel punto basso un punto basso 2 catenelle 3 punti alti all'interno dell'archetto così si formano altri 5 petali e vado a chiudere tutto il giro che ho realizzato terminato tutto il giro ho ottenuto questo fiorellino alla fine ho semplicemente chiuso con la maglia bassissima ecco il fiorellino fatti i 3 fiorellini li andrò a cuscire sul davanti del vestitino magari mettendo anche una perlina al centro così ecco il nostro tutorial è giunto al termine spero che questo tutorial vi sia piaciuto un bacione a tutti e al prossimo tutorial grazie a tutti